Siamo a Fano per l'inaugurazione del Sentiero dell'Anima e con noi c'è Marcello Camerlingo, specialista in PNL e presidente della Scuola Europea in musicoterapia. Lei di cosa si occupa qui? Allora qui porto avanti un determinato progetto che è musicoterapia in gravidanza e attraverso l'elemento sonoro in pratica facciamo interagire la futura mamma col bambino che ha in grembo. Serve sia proprio per migliorare la comunicazione appunto con l'essere che sta per nascere che appunto per una serie di attività di rilassamento e quindi portare con tranquillità la gravidanza a termine. E come affrontate la cosa? Partite già da una musica precisa? Ma io utilizzerò tecniche di PNL. La PNL è la programmazione neurolinguistica, la scienza della comunicazione relazionale. Quindi in pratica prima interagisco con la mamma, quindi attraverso attività sensoriali. Poi l'aggiunta dell'elemento sonoro che è un linguaggio che non ha bisogno di essere codificato, quindi un linguaggio diretto arriva direttamente alla persona e quindi attraverso questo elemento che sostiene anche le attività di relazione si entra appunto in rapport e in interazione col soggetto. E poi da lì facciamo in modo che entrambi raggiungiamo anche il bambino e quindi la comunicazione prima diventa tre e poi diventa solamente fra mamma e bambino. Quindi una cosa che possono portare avanti anche a casa con qualche esercizio? Sicuramente, sicuramente. Sono tecniche molto semplici che non comportano nessuna particolare difficoltà, quindi il suono è un suono naturale, anche quello della voce, quello del canto. E la durata del corso? La durata del progetto è dieci incontri, sono previsti di tutti i lunedì, adesso poi logicamente anche in base alle esigenze della struttura, però è previsto una decina di incontri, con mamme anche fino all'ultimo mese di gravidanza, dal terzo mese in poi. Bene, allora invitiamo le mamme a partecipare al corso e noi la ringraziamo. Grazie a voi e speriamo di accogliere più mamme possibili. Grazie.